Inizia la sua carriera in teatro, con la compagnia teatrale Tina Trapassi, nota a Salerno e in provincia, in particolare per le innumerevoli rappresentazioni scolastiche. In seguito, recitando, fra gli altri, con Edoardo De Filippo nella commedia de Pretore Vincenzo, 1957, negli Ottanta esordisce nel cinema, partecipando a numerosi film cult della commedia all'italiana del periodo, come Vieni avanti Crettino di Luciano Salce, Sapore di mare di Carlo Vanzina, Sette chili in sette giorni di Luca Verdone e Piccolo diavolo di Roberto Benigni. Inoltre nella fortunata serie televisiva i ragazzi della terza ci interpreta il ruolo della signora Zampetti, sempre in televisione, e la moglie del protagonista nel meno fortunato la famiglia Brandacci. Proprio negli anni Ottanta la schiavone raggiunge la notorietà e si rivela pienamente il suo talento di brava caratterista, aiutata dal volto, dal fisico, e dalla vis comica, pur avendo partecipato anche a film non memorabili. Resta uno dei volti più riconoscibili del cinema di cassetta di quegli anni, nel quale interpreta, in genere, ruoli mogli e madri di mezza età, di estrazione popolare o piccolo borghese, dal fisico imponente, dai modi schietti e dalla risposta pronta. Annabella Schiavone muore il 26 settembre 1990 a Roma per un cancro mammario, proprio alla fine del decennio che ne aveva decretato la popolarità e a cui rimane legata la notorietà presso il pubblico.